Buon cibo, divertimento e sempre tanta allegria! Questo è il Complesso Miraviglia! B&B, pizzeria, ristorante. La location ideale per feste, cerimonie e eventi. A pranzo e a cena deliziose specialità. Pizza a tema, consegne a domicilio. All'interno sala per eventi di ogni tipo. E tutti i weekend, area giochi per bambini e animazione. Complesso Eventi Miraviglia. Nessuno ti dà di più. A quarto, violenza lunga 6.